Musica Adesso vanno addirittura a denunciare i poliziotti E per che cosa poi? Perché hai anche sti documenti Sì però Marco questo è un caso particolare Hanno proseguito fino a quella casa gialla, casa sua Lui è entrato e i poliziotti che lo aspettavano di fuori Hanno controllato i documenti, non lo so Si vede che è stato sospetto Io per quello che lo conosco io mi sembra una persona a posto Prima o poi usciremo dall'oscurità E vivremo in un mondo nuovo In un mondo più buono Sono tutte cazzate Basta guardare quello che succede là fuori Musica Musica Musica